Controlli a tappeto dei carabinieri nel fine settimana lungo le principali arterie della Val di Chiana a Retina. 18 militari impegnati nel servizio di controllo del territorio e 9 i veicoli con i colori di istituto scesi in strada. Sono state così identificate in tutto 115 persone, controllati in 98 veicoli, contestate 8 contravenzioni al codice della strada ed infine ritirate 5 patenti per guida sotto l'effetto di alcol e di sostanze stupefacenti. A Cortone i militari del NORM hanno arrestato un uomo sorpreso con quasi 100 grammi di hashish. E' poi scattata la denuncia per altre due persone, un uomo trovato in possesso di una patente di guida contraffatta ed un altro invece al volante in stato di ebrezza alcolica. Le analisi hanno infatti evidenziato un tasso alcolemico molto superiore al consentito. I carabinieri della stazione di Camuci hanno invece ritirato la patente e segnalato un uomo trovato in possesso di un grammo e mezzo di hashish nascosto all'interno del cruscotto. A Castiglion Fiorentino nei guai due giovani sorpresi dai militari con tirapugno, un bastone telescopico e un grammo di hashish. Infine i carabinieri di Mercatale di Cortona hanno denunciato due persone perché trovati in possesso di alcuni grammi di hashish nascosti all'interno della custodia di una sigaretta elettronica.